Il mio intervento in questo grande convegno è orientato nel valorizzare quelle che sono tutte le risorse dell'individuo, perché la salute è un mix di fattori che intervengono su più livelli, quindi la salute multidimensionale. Energia e materia. Un essere vivente per essere sano e mantenere una qualità di vita nella quantità di vita deve essere capace di mantenere adeguati livelli di energia per il sostentamento e di produrre materia sia per la crescita che per il rinnovamento strutturale. Io lo faccio come medico nell'RSA che ho diretto, lo faccio con una squadra di calcio, sono pugliese, sono monopolitano, perché anche quella è una risorsa, lo faccio in campo salutistico perché credo a questo grande progetto che oggi con questo convegno è stato rafforzato, di unione delle forze, di unione delle menti, di unione dei cuori, di unione delle anime che possano mettere al centro del progetto l'essere umano.